La Superlega torna in scena per il penultimo atto della regular season. A due partite dal termine, la griglia dei play-off è ancora quanto mai in equilibrio. La sola certezza sia al vertice, con Civitanova che guida in contrastata a 64 punti, garantita dalla matematica del suo primato. Dietro, Trento e Perugia conducono una volata a due, Modena è a sei lunghezze, difficile che raggiunga la coppia di duellanti. Per la dieta è che ci sono l'impegno casalingo con Molfetta, che è a quattro punti dalla zona play-off, con due avversarie come Trento e Civitanova davanti, cercherà di giocarsi il tutto per tutto e poi la trasferta di Monza. Per Perugia la partita di mercoledì è sul campo dell'ormai fuori dai giochi Milano, mentre domenica dovrà fare i conti.